Certamente porteremo una scuola estiva dell'Università di Bergamo a Clusone. Sono le parole del rettore dell'Università degli Studi di Bergamo Stefano Paleari che, introdotto dal pro-rettore delegato dell'Università, il professor Remo Morzenti Pellegrini di Clusone, durante il meeting organizzato dal Lions Club, città di Clusone e Valle Seriana Superiore, ha illustrato e presenti il tema, la globalizzazione e la crisi dei distretti industriali, il caso della Valle Seriana. Questa sera lei ha detto una cosa davvero interessante per la cittadina di Clusone. Probabilmente ci sarà una Summer School dell'Università ubicata in Valle Seriana. Sì, abbiamo deciso di far scendere l'Università sul territorio con delle iniziative specifiche. Quella delle scuole estive dedicate a studenti provenienti da tutto il mondo e con delle finalità precise è nei nostri programmi. Una la faremo senza dubbio a Clusone. Dettore, lei crede fortemente nel territorio bergamasco? Ci credo perché se il territorio bergamasco governa positivamente la trasformazione che sta subendo ne trae beneficio anche la nostra Università e noi vogliamo essere attori di questo cambiamento insieme al territorio. Cosa si può fare per uscire da questa situazione difficile? In passato i distretti sono cresciuti con una logica di cinghia e di trasmissione. Molte imprese collegate tra di loro attraverso un'attività di conto terzi. Oggi il distretto si sta misurando con una logica di sistema che parte da come si arriva, per esempio attraverso l'aeroporto e evolve nel che cosa si sa fare, quindi non solo turismo ma anche attrattività industriale e di servizio. Dobbiamo puntare sull'aeroporto di Bergamo, ma come poterlo trasformare da un hub low cost a una vera e propria porta di accesso, un gate per l'economia di Bergamo e la provincia? Occorre guardare l'aeroporto come sistema di accesso e non come porta di accesso esclusivamente, pianificare nel lungo non solo sui volumi ma sulla qualità degli interventi che attraverso i volumi si possono determinare nella nostra città. L'università è un interlocutore diretto, tanto più l'attività di un aeroporto è istituzionalizzata, tanto più fa il bene del suo territorio. Al termine della serata il rettore ha ricevuto anche una piccola sorpresa. I Leo, i giovani patrocinati dai Lions Club, hanno infatti spiegato il loro progetto nazionale Unileo for Light che prevede l'apertura di postazioni informatiche per studenti non vedenti e ipovedenti negli Atenei di tutta Italia. Quest'anno tra gli obiettivi c'è anche l'Università degli Studi di Bergamo e l'avvio dell'iter della donazione all'Ateneo Bergamasco di materiale software e hardware persino un valore di 12.000 euro è a buon punto.